Quanti soldi hai shoppato su Brawl? No vabbè non ci voglio credere che c'è una domanda del genere Ma ragazzi questo video mi rovinerà la reputazione, dai! Allora va bene, rispondo, rispondo, state tranquilli Vi posso dire che se 2000 gemme costano 100 euro Io penso di averne shoppati più di 500 euro Forse, forse, dico forse, ecco beh Forse non arrivo a 1000 O forse sì, non lo so Intorno a quella cifra